Allora ragazzi, detto ciò, pulliamo. Allora, pulliamo. Allora, in realtà Papalimo non mi interessa più di tanto. Mi piacerebbe però tentare magari di beccare tutto subito per poi magari spostarmi su Ignis. Mentre invece c'è la pull gratis per la campagna della Crystal Room che è praticamente la prima multi gratis con Sisney, Leonora e Arsiela. Io ovviamente qua ho tutti, perché qui praticamente ho tutti tranne Arsiela. Quindi se mi uscisse Arsiela dalla multi free non sarebbe male. Vediamo. Oh, oh, orbo viola, orbo viola. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Ah, li vedete anche voi? Ah, vabbè, allora li vedete tutti, mi sa. O forse li vedono i VIP? Boh, non ne ho idea come funziona. Ok. Ah, vabbè, FR di Arsiela, vabbè, la FR, la FR di Arsiela, se non ricordo male, ce l'avevo però. O forse neanche, no, forse neanche ce l'avevo la FR di Arsiela. Quindi, nuova, tutto nuovo praticamente. Perché io Arsiela non l'ho pullata proprio. Va bene, free ticket da Papalimo. Niente, ovviamente. Gli Aonfire opobopop. Sta facendo una strage opobopop. Eh sì, sta facendo una strage perché, ripeto, erano un centinaio, quindi li sta disintegrando tutti, giustamente. Allora, primo ticket. Ok, orbo dorata. In realtà sarei più propenso nel prendere Ignis, sinceramente, che Papalimo. Perché Ignis, comunque sì, ha una buona utility. Ma mi sa che ora io i ticket li butto da Ignis. Non li butto qua da Papalimo. Cioè, Papalimo, una volta uscito un personaggio come Xezath, sinceramente, non mi interessa più di tanto. Quindi, io me ne vado dal buon vecchio Ignis, che mi ricompensa con una orba azzurra. Cioè, io parlo bene di te e tu esci con l'orba azzurra. Ma non ti vergogni. Cioè, veramente, Ignis. Ma almeno una orba dorata. Cioè, dammi almeno una orba dorata. No. Orba azzurra. A meno che mi dai... No. Pensavo mi volesse dare una BT camuffata da... Da orba azzurra, invece. Ah! Un connecting pesante qui, eh. Ciao Miniarock. Scusa se mi introdotto con un altro argomento. Cosa ne pensi di Final Fantasy War of the Visions? Ci giochicchio. Però, ragazzi, troppo farm. Troppo farm. È bellino come gioco, graficamente. Poi, ovviamente, il tactics è sempre bello. Però, ragazzi, si deve farmare come una bestia in quel gioco. Cioè, l'ho abbandonato, tra virgolette. O comunque lo gioco... Lo gioco molto easy. Molto shallow. Perché si deve farmare come le bestie. È incredibile. E qua l'altro orgo dorato. E quindi, diciamo che per questo l'ho abbandonato. No, non... Allora, se avete poco tempo... Se comunque non vi piace farmare, ragazzi, non giocate War of the Visions. Perché... Potete levarci le mani. Di totale. A sto punto, se vuoi giocare un qualcosina così... Tanto per, giocati Brave Exus. Non War of the Visions. La versione quella... Quella pixelosa. Che almeno quello... Ti fai gli eventini. Ti fai le pool. Ti fai le cose. E giochi. Però... Ma in realtà, per Crisis... Il troppo farm... Il troppo farm esiste... Se vuoi fare tutto subito. Se tu fai come me, per esempio. Che io ho fatto le cose giornalmente. Poco per volta. Non mi è venuto pesante. E mi sono maxato le armi. Mi sono maxato i personaggi. Mi sono maxato quello. Però ho fatto tutto piano piano. Quindi ci sta. Brave Exus probabilmente... Probabilmente è un po' più pay to win. Infatti io lo gioco... Molto... Molto shallow. Anche quello. Cioè... Entro. Faccio le pool. Mi faccio l'evento. E basta. E poi stacco. Allora. Qualche ticket lo buttiamo qua. Che sono cappato. Così almeno... Faccio un po' di spazio. Una cinquantina. Cioè se vi fate prendere dalla premura. In Ever Crisis. Non ne uscite più. Cioè vi riducete praticamente a sprecare. Tutte le boccette della stamina. Della stamina. Senza concludere niente. Anche perché delle volte magari. Quando volete farmare qualcosa. Non siete lucidi dal dire. Minchia devo farmare queste cose. E quindi farmate random cose. Che non vi servono magari. E poi vi ritrovate con oggetti. Che non vi servono più. Io infatti. Quando mi devo farmare le robe su Ever Crisis. Ci penso. Dico ma questa cosa mi serve. Questa cosa. Oppure farm al momento. Cioè nel momento in cui mi serve una cosa. La farm. Cioè non faccio. Ah. 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 Ma io le FR Dignis. Mi sa che ce l'avevo però. Perché non mi è apparso new. Ma che cazzo. Ma seriamente. Cioè FR e BT così. Schippato. Così. 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 Va bene. Va bene. Va bene Ignis. Grazie. Grazie. Sti altri 10 di che te li buttiamo da Papalimo. Vediamo se magari anche lui mi fa la sorpresa. No. Va bene. Cosa? Va bene. Ne buttiamo. Ne buttiamo un altro po' da Papalimo. Vediamo se magari. Chiamate la polizia dei coloni Opo-Bop-Pop. No. Vabbè. LD di Charlotte anche no. Ha funzionato. Lo skip ticket ha funzionato ancora. Ok. Gli ultimi 10. Dopodiché Papalimo lo cestiniamo. Perfetto. Cestinato Papalimo. Oh. Ignis in realtà non mi dispiace eh. Ignis non mi dispiace. Ok. Ok.